La gestione integrata delle zone costiere nell'ambito dell'unità fisiografica del distritto idrografico dell'Apenino Meridionale, questo è il tema di un interessante workshop che si tiene oggi al Cron Plaza di Caserta. Di questo ne parliamo con la dottoressa Vera Corbelli, geologa e segretario generale dell'autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno. Perché qui a Caserta questo workshop? Allora, Caserta, la nostra sede operativa come autorità di Bacino è in questa città che ci sta ospitando da alcuni anni e poi anche in plematica come territorio provinciale perché lungo la linea di costa, campana, ricadente nell'Iri, Garigliano e Volturno abbiamo un esempio di tutti quelli che sono i problemi del sistema terra-mare e anche di quelle che sono le potenzialità. E proprio da qui è partito uno dei progetti integrati secondo la programmazione comunitaria sul sistema costa-terra-mare. Lei ha parlato di criticità, dottoressa, quali sono in particolare quelle che caratterizzano il litorale Domizio? Quali sono le criticità di questa zona? Allora, le criticità sono complesse. Non si tratta solo di un problema di erosione costiera ma si tratta di un problema anche di inquinamento delle acque, di problemi di rischio idraulico, cioè rischio di alluvioni, di problemi di intrusione del cuneo salino, di subsidenza, una minaccia che stanno avendo e che cresce giorno per giorno il sistema dunale. Per cui noi dobbiamo avere la capacità, come sta già avvenendo, di trattare queste problematiche in maniera integrata, dando delle risposte integrate e complesse nel rispetto e con l'obiettivo del bene comune.